andiamo a parto avventura? bello il tuo canyon tutte le cazzate vieni a fermare andiamo a Kaila ciao a tutti nuovo video oggi siamo a prenderci un po' di fresco agli spiazzi di Gromo e ci facciamo qualche discesina in park qui c'è un park piccolo sono un paio di discese ma sono carine con la famiglia Cagnetta, Kaila ti sta bene qua? fa fresco? la Kaila qua c'è anche per chi non conoscesse la zona parco avventura per i bimbi famigliare come location che a Milano cominciava a far caldo prendiamo i formaggi bravo amore allora ragazzi risalita prima di salita ci facciamo qualche discesa il parco è carino prendiamo un caffè abbiamo dietro anche la famiglia e nea ciao ho fatto l'Avert 1 se non mi sbaglio adesso facciamo la 2 il suo comprensorio è molto adatto a chi vuole cominciare a capire che cos'è che significa andare in park la prima parte è in comune per entrambe dopo proviamo la orientina qui in alto eh allora cosa è successo è successo che due signori sotto di cui non farò nomi e non farò vedere nemmeno in video mi hanno consigliato un sentiero che in realtà è esula da questi due del park ed è molto più naturale non dirò il nome del sentiero si sviluppa accanto ai due esistenti e così proviamo qualcosa di un pochino più naturale rispetto al flow pettinatissimo che c'è qua in spiazzi di gromo che è proprio da DH puro di là invece è più naturale più enduro e proviamo a vedere se non ci perdiamo e facciamo il suo sentierino oh un po' di naturale bagai enduro bellissimo ragazzi minchia minchia il peccato che non è pulito vabbè non lasciarlo così naturale bastava vedere che ci sono le spoglie qua c'era pure un salto qua alti oppla bellissimo figlia enduro quindi qui abbiamo fatto questo sentiero bellissimo come avete visto naturale enduro 100% quindi non troverete niente di spondato esagerato piuttosto che di preparato è perfetto per imparare perché si impara a guidare in questi sentieri non sul troppo costruito oggi risveglio movimentato perché sono le 9 del mattino c'è già una fucilata di gente andiamo a parto avventura bella lì secondo giorno in park oggi siamo in compagnia ci è venuto a trovare il rider siamo alla prima risalita c'è anche una new entry Manu facciamo il trenino non dare figa non entrare in modalità race vai sereno lì però il a caccia le brotto Sì 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 Soprattutto le cazzate Sì 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Porco due figa. Grazie. 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 Bello sto canyon. Grazie. 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 Grazie.